Trasporto pubblico e ANM. In commissione congiunta bilancio e infrastrutture è stata esaminata la delibera dello scorso 15 marzo con cui la Giunta propone al Consiglio l'approvazione dell'aumento di capitale dell'ANM per 65 milioni di euro. All'incontro hanno preso parte l'amministratore unico dell'azienda di trasporto Alberto Ramaglia e gli assessori al bilancio, al lavoro e alle infrastrutture. Sono previste fra le altre cose l'assunzione di 160 nuovi autisti e la riconversione di altri 85 lavoratori col ripristino delle 39 ore settimanali per una quota di personale amministrativo e una riduzione del 20% del salario dei dirigenti. Previsto anche l'aumento progressivo dei biglietti in tre anni fino a 1,30 euro nel 2019, l'aumento delle tariffe per la sosta nei parcheggi comunali per i residenti sulle strisce blu e per i bus turistici. Dopo le relazioni illustrative è molto animata la discussione con richieste di approfondimenti, apprezzamenti e critiche e proposta di interventi correttivi.